Grazie a tutti. 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 di epoca medievale più importante degli ultimi anni dalla strada che costeggia l'ex provincia il manufatto imponente ben visibile ora spetterà alla soprintendenza decidere cosa ne sarà della struttura il tervisiano territorio turisticamente attrattivo che ha registrato anche durante l'estate numeri decisamente molto positivi dove illuminati imprenditori hanno deciso o sono in procinto di decidere importanti investimenti oggi è potuto approfondire con operatori istituzioni alcuni progetti assicuro che la regione ce la darà ulteriore impulso attraverso promoturismo fvg a tutte le opere per la gran parte già finanziate di supporto allo sviluppo della montagna della sua attrattività lo ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive turismo sergio midiobini al termine della giornata di incontri ieri sopra luoghi effettuati nel tarvisiano accompagnato dal vice presidente del consiglio regionale stefano mazzolini per ampliare il demanio sciabile la regione è stanziato nel triennio 2018 2020 oltre 5 milioni di euro la regione friuli venezia giulia è impegnata a favorire la trasformazione digitale ma in italia sussiste anche un forte divario tra le grandi realtà urbane i comuni con meno di 20.000 abitanti che sono il 93 per cento del totale il diritto alla cittadinanza digitale la possibilità di dialogare con la pubblica amministrazione non solo dovrà invece divenire tale per ogni cittadino e se si affermerà l'alleanza tra il mondo digitale l'economia il lavoro e l'ambiente allora diverrà lo strumento per favorire un'adeguata qualità della vita e un futuro più sereno per tutti i cittadini l'esperienza da recente lockdown deve rappresentare un impulso per la digitalizzazione del paese per afforzare la dimensione pubblica della struttura digitale con vantaggi per i cittadini l'economia la condivisione e partecipazione ai processi di crescita lo ha affermato l'assessore regionale del patrimonio sebastiano callari intervenuto come coordinatore della commissione speciale agenda digitale della conferenza delle regioni e province autonome alla videoconferenza cantiere italia uno sguardo degli appuntamenti ancora previsti per oggi in friuli venezia giulia triestin in sala xenia le ore 19 la presentazione della mostra del volume fotografico chromantic tributo ad alex webb nell'ambito di 3s photo days 2020 in portovecchio la manifestazione it's international talent super talent di giovani creativo evento e premiazioni anche in live streaming l'uscita del fashion film he we belong su piattaforma digitale it's luino risina ore 19 30 il festival del carso e del mare è stato annullato a palmanova teatro gustavo modena alle 18 conferenza psicologia e traffico riflessioni sulla percezione del rischio viario e sulla sicurezza stradale con il psicologo mark max dorfer nell'ambito del festival della psicologia a corno di rosazzo villa nachini cabassi alle 18 30 il concetto della contrabassista silvia bolognesi nell'ambito del festival jazz and wine of peace sul friuli venezia giulia cielo da nuvoloso a coperto con qualche foschia deboli piogge locali più diffuse dalla sera quando soffierà vento da sud moderato sulla costa in quota domani di notte primo mattino cielo coperto con piogge sparse moderate o localmente abbondanti soffierà vento da sud moderato sulla costa in quota in giornata nuvolosità variabile con possibili rovesci temporaleschi piogge più intense specie ad est verso sera fenomeni in attenuazione per quanto riguarda il veneto cielo molto nuvoloso coperto le nebbie sulla pianura nelle valli prealpine tenderanno a dissolversi per quanto riguarda la giornata di domani alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura nebbie sparse fino all'alba in dissolvimento al mattino in nuova formazione di sera le temperature sulla pianura nelle ore notturne più alte nelle diurne avranno andamenti irregolari in montagna in calo eccetto andamenti irregolari diurni nelle valli variazioni anche sensibili previsioni a cura di arpa fvg meteo e di arpa vagenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto per il momento dal nord est è tutto appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti